Grazie a tutti per aver invitato me come rappresentante di Ragazze del Pallone. Ragazze del Pallone io lo definisco una realtà, un evento sportivo, un weekend di festa, ma soprattutto un mezzo. Un mezzo per far conoscere noi, ma soprattutto per dare voce ad atlete che cercano in ogni modo di sottolineare tutto quello che abbiamo detto questa sera. Noi siamo Ragazze del Pallone, è un evento che viene svolto una volta all'anno per il nono anno consecutivo. Diamo voce, ripeto tutto quello che abbiamo detto questa sera, ma soprattutto per dare le possibilità a delle ragazze, non a caso ci chiamiamo Ragazze del Pallone, di svolgere degli sport. È un weekend di festa, è un weekend in cui tantissime atlete, io mi permetto di dire professioniste e non, in cui svolgiamo un weekend sfrenato di sport. Quest'anno abbiamo deciso di portarlo in spiaggia, a Isola Verde. È stato molto faticoso, ma è stato un super evento perché abbiamo dato spazio alla pallacanestro, abbiamo dato spazio al calcio, alla pallavolo, al rugby, varie realtà che sono conosciute o meno in Italia. Io mi permetto di dire questo, oltre ad essere un mezzo, perché è un festival totalmente femminile, è anche un esempio di umiltà, secondo me, se posso permettere di dire questa cosa qua. È un esempio di umiltà perché ci sono tantissime ragazze professioniste che vengono sia dalla Nazionale di Calcio Femminile, ma anche dalla pallacanestro. Sono ragazze che l'anno scorso giocavano con me, che hanno avuto da due anni un figlio, e che giocano comunque in A2, ma che non hanno un minimo di contributi, non hanno un minimo di rispetto, perché il rispetto secondo me nello sport in generale dovrebbe esserci sempre. Ma sono delle ragazze che arrivano a scrivermi, arrivano a contattarmi e mi dicono ma Chiara quest'anno, se si fa anche la pallacanestro, o comunque se si fa anche il calcio, quante squadre ci sono? È che io sono un po' sbalordita nel rispondere a questa domanda e dico ma perché mi dite questa cosa qua? È perché in tantissimi eventi italiani e non ci sono poche squadre, ci sono poche squadre e quindi le poche squadre femminili che partecipano ai tornei vengono amalgamate a squadre maschili e quindi io dico ma porca miseria, ma come è venito amalgamate negli sport maschili? E loro mi dicono guarda la pallacanestro in generale in Italia se ci sono poche squadre che partecipano ai tornei vengono associate al maschile. Il maschile è un macromondo rispetto al femminile completamente diverso, cioè non può una ragazza che giochi a pallacanestro, che faccia tutti gli sport che possono fare loro gareggiare o comunque competere contro i maschi, ma non solo per quanto riguarda il professionismo, ma a livello fisico e quindi un problema che secondo me si deve affrontare e si deve sottolineare è il fatto che il torneo di ragazze nel pallone dia spazio alle ragazze di esprimersi al 100%, che dia la possibilità a una ragazza di far vedere quanto vale tanto quanto un maschio, ma abbiamo parlato di soldi, abbiamo parlato di professionismo, abbiamo affrontato tantissimi macromondi questa sera, ma il vero problema è che secondo me non si può competere contro un maschio, cioè fisicamente è un problema che non viene riconosciuto, cioè non può una ragazza che gioca a pallacanestro, non può una ragazza che fa calcio, non può una ragazza che fa tutti i loro sport, competere contro un maschio, cioè fisicamente è una cosa davvero impossibile ed è una cosa che non è riconosciuta, è una cosa che mi dicono guarda ci sono due squadre iscritte a questo torneo, ma le facciamo giocare con i maschi, non si può, non è davvero possibile e quindi ragazze nel pallone abbiamo deciso di chiamarci così proprio per questo motivo qua, per dare spazio alle ragazze per tutti i temi che abbiamo affrontato questa sera, ma soprattutto per dire che le ragazze hanno tale quale livello rispetto ai maschi, devono essere ricompensate rispetto ai maschi, ma che se delle ragazze rimangono incinta e costruiscono una famiglia devono comunque essere agevolate tanto quanto un uomo e purtroppo ragazzi è verissimo quello che diceva Ari, non è così, cioè io non so se lo sapete ma non è così, in Italia non è così, quindi io ringrazio tutte le ospiti che sono qui per dare voce e soprattutto pugno alto come si suol dire per far sì che le donne sotto ogni punto di vista possano essere agevolate e soprattutto riconosciute.